Buongiorno, l'argomento della reazione riguarda la neurointerventistica. La neuroradiologia interventistica consiste sostanzialmente in una serie di tecniche terapeutiche che attraverso un approccio vascolare permettono di modificare alcune condizioni patologiche di natura vascolare o condizioni patologiche di vascolarizzazione, ad esempio di un tumore cerebrale, o anomalie dei vasi epiortici. Prevede la possibilità di un trattamento attraverso un approccio anche per cutaneo di alcune lesioni espansive del distretto testa-collo o vertebrale, ad esempio per le arnie del disco. Sostanzialmente ciò che possiamo fare per viendo vascolare è dilatare un vaso, riabitare un vaso chiuso, chiudere un vaso, quindi occludere ad esempio un vaso che vascolarizza un tumore o una malformazione arteriovenosa, ridurre la vascolarizzazione di un tumore. Le patologie vascolari di pertinenza neurointerventistica sono sostanzialmente 3, gli aneurismi, le MAV, le fistole arteriovenose. Di recente introduzione negli ultimi 5-7 anni il trattamento dello stroke ischemico e poi c'è la patologia espansiva che viene raramente ma è una possibilità di trattamento. Gli accessi diagnostici, gli accessi vascolari per raggiungere la regione da esaminare sono sostanzialmente l'arteria femorale ma in altre condizioni o se necessario si può accedere direttamente attraverso la carotide, molto raramente la puntura della carotide è una tecnica che veniva eseguita molti anni fa prima dello sviluppo del cateterismo femorale, oppure attraverso l'arteria brachiale o attraverso l'arteria radiale più frequentemente. Diciamo che l'accesso radiale negli ultimi tempi sta diventando più utilizzato in quanto evita il riposo a letto del paziente dopo l'accesso femorale e quindi la più veloce dimissione del paziente. Come viene eseguita un'angiografia diagnostica? E' fondamentale la puntura del vaso attraverso la tecnica di Seldinger che prevede la puntura del vaso arterioso, venoso, attraverso un ago cavo quindi un ago che all'interno ha un foro. E' un ago in genere da 18 gocci. Una volta appunto il vaso, e quindi visto il sangue che fuoriesce attraverso la parte cava dell'ago, viene inserita all'interno un filo guida il filo guida avanza all'interno del vaso punto quindi a questo punto può essere rimosso l'ago che ha consentito l'accesso all'interno del vaso e rimane il filo guida all'interno. Sul filo guida viene poi avanzato un introduttore la rotazione facilita l'inserimento dell'introduttore all'interno del vaso quindi il superamento anche della cute dopo aver inserito l'introduttore possono essere inseriti attraverso questo introduttore vari cateteri e vari dispositivi. Esistono introduttori di varie misure come lunghezza, come calibro e di varia rigidità in rapporto all'utilizzo che se ne vuol fare cioè se è un utilizzo diagnostico o se è un utilizzo ad esempio per un trattamento e quindi c'è necessità di un catetere portante e di un introduttore più supportivo. I cateteri possono avere varia forma e questo per agevolare la cateterizzazione cioè il raggiungimento dei vari vasi quindi dei vasi epiaortici quindi la soclavia e poi l'arteria vertebrale o il tronco anonimo e poi la carotide comune la carotide comune di sinistra o la soclavia sinistra. In rapporto alla conformazione dell'arco dell'arco aortico si decide quale catetere utilizzare. I cateteri hanno varie forme e anche vario calibro così come le guide che servono appunto per far avanzare il catetere non si avanza il catetere senza la guida la guida deve essere avanti deve incannulare il vaso successivamente sulla guida si avanza il catetere. Le guide possono avere delle dimensioni variabili tra un millimetro le più grandi le 0,39 0,38 inch e possiamo utilizzare anche delle microguide piccolissime da 0,07 inch che sono circa 180 micron per avere un'idea 180 micron è un quinto di millimetro consideriamo che un capello umano è 40 micron quindi 4 volte un capello. Ecco la particolarità di questi nuovi materiali che consentono appunto di cateterizzare dei vasi cerebrali veramente di calibro molto piccolo. le guide sono di lunghezza variabile da 150 a 300 centimetri anche la punta della guida può essere diversa per favorire l'avanzamento e anche la radiopacità in rapporto al materiale utilizzato. Riguardo i cateteri dicevamo possono avere delle forme diverse e possono essere utilizzati o per un'angiografia diagnostica quindi per iniettare il mezzo di contrasto oppure possiamo avere dei cateteri di piccolo calibro per angiografie super selettive o per rilasciare delle spirali all'interno degli aneurismi o per chiudere un vaso e questi sono cateteri di calibro estremamente piccolo che vengono sempre avanzati su microguida in genere per il trattamento degli aneurismi utilizziamo dei microcatederi da circa 1.7, 2 French e delle microguide da 0.12, 0.14 i cateteri possono essere utilizzati anche per cambio guida quindi all'interno del catetere si avanza una guida e poi se necessario utilizzare un altro catetere su quella guida si porta un altro catetere per agevolare la navigazione di alcuni fasi possono essere utilizzati per l'infusione di farmaci oppure possono avere delle caratteristiche strutturali tale che consentono che agevolano il passaggio di altri cateteri quindi per irrigidire il sistema e favorire sempre l'accesso ai vasi distali alcuni cateteri hanno un palloncino e sono utilizzati appunto per una occlusione temporanea di vasi come scegliamo il catetere? in genere per un'angiografia diagnostica utilizziamo un catetere da 5 French quindi di calibro 1.65 mm ma dicevamo per la parte interventistica utilizziamo dei micro cateteri con parte distale più piccola in genere 1.7 addirittura anche da 1.5 1.5 corrisponde da circa 500 micron quindi mezzo millimetro questo per la navigazione sempre dei piccoli vasi cerebrali la forma è diversa per agevolare il cateterismo o il micro cateterismo appunto dei vasi che devono essere studiati quali sono le patologie vascolari l'abbiamo già detto aneurismi MAV FAVD e poi lo strutturco ischemico vediamo gli aneurismi cos'è un aneurisma? per l'aneurisma intendiamo una dilatazione una bolla sulla parete vasale e ciò che è consentito con ciò che possiamo fare con la neurointerventistica è appunto un'esclusione dell'aneurisma quindi può essere eseguito un cosiddetto coiling semplice quindi un riempimento dell'aneurisma con spirali un coiling assistito in quei casi nei quali il coiling semplice non è consentito è necessario appunto sostenere il coiling o con uno stent o con un palloncino o con altri sistemi possono essere trattati posizionando uno stent a diversione di flusso oppure dei dispositivi intrasacculari quindi all'interno dell'aneurisma per escluderlo dal cibo la frequenza di aneurisma cerebrale è riportata nei vari studi intorno allo 0,5-2% e in alcune autopsie addirittura fino al 9% dei soggetti sono portatori di un aneurisma cerebrale più frequentemente gli aneurismi si sviluppano in prossimità delle biforcazioni vasali perché lì c'è un maggior stress emodinamico e quindi la lassità di parete dovuta alla incompleta formazione della tunica muscolare alla lassità delle cellule comporta appunto la formazione degli aneurismi più frequentemente li osserviamo a livello della carotide interna circa un 40% il 30% circa si sviluppano in corrispondenza dell'arteria cerebrale anteriore o della comunicante anteriore quindi la maggior parte degli aneurismi li osserviamo proprio tra carotide interna e vasi del circolo anteriore un 15% a livello della cerebrale media e questi sono in genere a livello della biforcazione della cerebrale media e una parte minore nel circolo posteriore basilare 12% vedete vertebrale circa 3% nella carotide interna una distinzione va fatta tra gli aneurismi intra e gli aneurismi extra cavernosi cioè gli aneurismi che si trovano oltre il foglietto durale quindi all'interno della cavità cranica oltre la dura responsabile di emorragia subaracone o quelli che si sviluppano prima del foglietto durale quindi gli aneurismi extra durali ci interessano gli aneurismi intradurali quelli quindi quelli che si sviluppano oltre il foglietto durale che rappresentano circa vedete il 5% nel tratto oftalmico il 20% nel tratto comunicante posteriore il 3% a livello della biforcazione e il 7% a livello dell'origine dell'arteria colidea nella cerebrale media dicevamo la maggior parte degli aneurismi sono a livello della biforcazione 13% nella cerebrale anteriore più frequentemente li osserviamo a livello della comunicante anteriore nella basilare sono più frequenti a livello dell'apice e nell'arteria vertebrale più frequenti a livello dell'origine delle arterie cerebellari posti inferiori della pica cosa deve fare il radiologo di fronte al aneurisma ovviamente individuarlo e quindi stabilire sede dimensioni e rapporto con i vassi consideriamo piccoli gli aneurismi che sono inferiori a 7 mm medi gli aneurismi tra 7 e 12 mm grandi gli aneurismi tra 13 e 24 e giganti più di quelli più grandi di 24 mm come misuriamo un aneurisma dobbiamo tenere presenti tre parametri e cioè il fondo dell'aneurisma il dome o l'ate che è appunto l'altezza dell'aneurisma il diametro trasverso massimo o dome e il neck che è il colletto dell'aneurisma queste misurazioni sono importanti perché permettono di stabilire le difficoltà di un trattamento endovascolare ovviamente in un aneurisma con colletto piccolo sarà possibile depositare le spirali senza il pericolo che le spirali migrino nel vaso parente proprio perché il colletto è piccolo in un aneurisma con colletto grande dovremo pensare a un sistema di supporto delle spirali che se messe senza sostegno potrebbero migrare all'interno del vaso parente di cosa è responsabile un aneurisma è responsabile di un'emorragia cerebrale cosiddetta subaracnoidea che vuol dire subaracnoidea che il sanguinamento si verifica nello spazio subaracnoideo quindi nello spazio normalmente occupato da liquor sappiamo che l'emorragia cerebrale può essere intraparenchimale quindi all'interno della sostanza cerebrale subaracnoidea appunto nello spazio subaracnoideo sottodurale o epidurale se si localizza all'interno della dura o all'esterno della dura quindi tra dura e osso l'emorragia subaracnoidea è esclusa la traumatica più frequentemente causata dalla rottura di aneurisma nel 95% dei casi clinicamente si manifesta con un'emorragia con una cefalea trafittiva cosiddetta colpo di pugnale il paziente riferisce un dolore improvviso fortissimo che non ha mai provato a livello nucale ecco perché l'anamnesi è importante quando il paziente ci riferisce una cefalea dobbiamo chiedere che tipo di cefalea ha avuto ci deve raccontare come si è verificata e quali sono state le caratteristiche dal punto di vista clinico distinguiamo diverse condizioni il paziente può avere la cefalea in assenza di altri sintomi e quindi definiamo il grado clinico dell'emorragia subarachonea con questa scala di antesse come grado 1 se non ci sono sintomi se c'è una cefalea intensa ma non ci sono deficit neurologici a parte un interessamento dei nervi cranici lo definiamo grado 2 della scala antesse se il paziente è confuso sonnolente o ci sono lievi deficit focali un grado 3 nel grado 4 è presente un omiparesi nel grado 5 è presente il coma questa scala di antesse è importante perché correla con l'evoluzione clinica chi entra gravemente compromesso probabilmente difficilmente supererà l'emorragia subarachonea il paziente che entra con un antesse basso 1 2 più probabilmente avrà possibilità di sopravvivere quanto è frequente l'emorragia subarachonea quanto è importante questo problema circa 10 100.000 questo vuol dire che abbiamo in una città come Roma con 5 milioni di persone compresa la periferia 500 casi di emorragia subarachonea da rottura di aneurisma ogni anno questo ci dà la dimensione del problema ebbene un terzo di questi pazienti non arriva in ospedale e muore subito la mortalità compressiva dell'ESA anche per chi arriva in ospedale di circa il 44% e questo ci dice che è una patologia estremamente grave e delicata oltre al grading clinico che ha un valore prognostico come detto la scala di Antesse vi è anche un grading radiologico che ci permette di ipotizzare quale sarà l'evoluzione tanto è maggiore il sanguinamento tanto peggiore sarà la prognosi il grading della scala di Fischer si basa appunto sui risultati dell'ATAC e prevede un grado 1 se non c'è evidenza di emorragia superacanidale all'ATC ma può essere evidente ad esempio alla puntura lombare o a una risonanza magnetica grado 2 per emorragie minime inferiori di un millimetro grado 3 per emorragie maggiori di un millimetro grado 4 se c'è associato un sanguinamento all'interno dei ventricoli o nel parenchima cerebrale diciamo che più spesso le emorragie subarachanidale che osserviamo sono grado 3 e grado 4 questo è un esempio di un ESA Fischer 4 Antest 3 di una donna di 67 anni vedete come le cisterne della base e lo spazio su paracnoide o soprattutto nella cisterna insulare di sinistra siano occupato da materiale perdenso che è il sangue appena fuoriuscito dalla rottura di questo aneurisma bisogna ricercare l'aneurisma lì dove il sanguinamento è maggiore e qui si vede come il sanguinamento è maggiore nella parte sinistra della cisterna pentagonale e soprattutto lo stravaso ematico occupa la cisterna insulare di sinistra quindi verosimilmente nella parte di sinistra che c'è stato il sanguinamento infatti l'attacca di base mostra questo piccolo aneurisma all'origine dell'arteria comunicante posteriore un aneurisma cosiddetto vestigiale che vedete cerchiato in rosso il paziente viene inviato ad eseguire una angiografia diagnostica questa è l'angiografia questa è una visione obliqua che mostra la carotide il sifone carotideo quindi il tratto sopra il neodeo e la biforcazione di carotide con la cerebrale anteriore che vedete nel lato sinistro della diapositiva e la cerebrale media nel lato destra ebbene prima della biforcazione è presente la dilatazione aneurismatica all'origine dell'arteria comunicante posteriore prima del trattamento nella diapositiva nell'immagine della diapositiva a sinistra e dopo il trattamento vedete a destra l'aneurisma escluso delle spirali ma che si procede per il trattamento endovascolare si esegue intanto un cosiddetto road map che rappresenta un po' la strada che dobbiamo seguire con il nostro microcatetere per raggiungere l'aneurisma si porta il microcatetere che vedete nella diapositiva nella fotografia al centro in alto all'interno della sacca aneurismatica e quindi si rilasciano delle spirali di dimensione adeguata in rapporto all'aneurisma che si deve trattare fino alla completa esclusione dell'aneurisma in basso a sinistra l'immagine non sottratta che mostra le spirali all'interno della sacca aneurismatica nella fase del posizionamento e nella versante destro alla fine del posizionamento vedete il compattamento delle spirali e l'esclusione dell'aneurisma dal circolo viene eseguito quindi il controllo che dimostra l'esclusione dell'aneurisma del circolo in alto a sinistra la visione laterale che mostra l'aneurisma all'origine della comunicante posteriore e a destra l'aneurisma escluso in basso la visione anteroposteriore con la estroflessione focale dell'aneurisma che manca a destra perché appunto l'aneurisma è stato trattato con il coiling dove si verificano più frequentemente gli aneurismi l'abbiamo detto in genere a livello della carodia interna e cerebrale anteriore la terza sede è la biforcazione della cerebrale media più rari gli aneurismi di circolo posteriore dicevamo dell'importanza delle dimensioni del colletto per decidere il trattamento un colletto largo non può essere trattato con un coiling semplice ma deve essere trattato con un coiling assistito vediamo un esempio aneurisma che viene identificato adeguatamente studiato con una ricostruzione 3D definiamo le dimensioni la morfologia eccetera e decidiamo poi per il trattamento appunto in rapporto alle dimensioni ne vediamo qualche esempio paziente con emorragia su paracronidea e qui vediamo un aneurisma da trattare l'aneurisma ha un colletto piccolo quindi è possibile un coiling semplice è un aneurisma a livello dell'origine della arteria cerebrale anteriore di destra prima del trattamento e dopo il trattamento cerchiato in verde l'aneurisma escluso dal circolo in particolare un ingrandimento che dimostra l'aneurisma prima e dopo l'embolizzazione questo è un piccolo aneurisma del tratto A1-A2 di 5 mm con tre arterie cerebrale anteriore una triple ACA quindi c'è un'arteria mediana del corpo galloso un'anomalia rara ma insomma è possibile osservarlo l'aneurisma è indovato tra A2 di sinistra e arteria mediana del corpo galloso trattamento è stato eseguito con coiling semplici con tre spirali di queste dimensioni 4x10 indica il 4 il calibro della spirale e 10 la lunghezza sono 4x10 cm 2,5x3 cm e 2 mm per 4 mm 2 mm cioè il primo numero sta per le dimensioni della spira cioè la memoria che ha la spirale che viene utilizzata le varie fasi della procedura viene intanto incannulata punta l'arteria femorale con tecnica di Seldinger l'abbiamo detto incannulata l'arteria carotide comune e si esegue l'angiografia diagnostica successivamente attraverso il catetere portante viene che è quello più grande che vedete in basso viene inserito il microcatetere con la sua microguida che naviga il sifone e raggiunge poi l'aneurisma questi sono i vari passaggi qui il microcatetere con la microguida che fuoriesce sta per entrare nella sacca neurismatica qui vedete l'ingrandimento l'aneurisma il microcatetere a questo punto è all'interno della sacca neurismatica sta arrivando la spirale ecco la spirale che esce e esegue il primo loop all'interno della sacca gli altri loop fino all'esclusione dell'aneurisma dal circolo e questa è l'immagine non sottratta che dimostra appunto le spirali posizionate nell'aneurisma posizionare un dispositivo che supporti le spirali qui vedete che la base è più grande del fondo dell'aneurisma in basso a sinistra a destra la ricostruzione 3D qual è la strategia posizionamento di uno stent che possa poi contenere le spirali e quindi le spirali nella sacca le varie fasi della procedura c'è dapprima un microcatetere che viene posizionato distale all'aneurisma per il rilascio dello stent un secondo microcatetere che vedete in basso a sinistra posizionato all'interno della sacca neurismatica quindi con il primo microcatetere si porta allo stent che viene rilasciato e con il questa è la fase del rilascio del microcatetere con il secondo microcatetere dopo aver rilasciato lo stent vengono immesse le spirali nella sacca che a questo punto sono contenute alla base dallo stent precedentemente rilasciato per il rilascio dello stent è necessaria una terapia con doppia antiaggregazione per evitare la formazione di trombi quindi di aggregati di piastrine quindi il paziente è stato preparato prima del rilascio con flectadol e plavix che sono gli antiaggreganti che utilizziamo durante la procedura viene eseguita una somministrazione di eparina per mantenere l'ACT l'activated clothing time il tempo diciamo di attivazione del coagulo più dilazionato qui siamo tra 250 e 300 millisecondi durante il rilascio dello stent e questo è il risultato finale del coiling stent assist prima della procedura a sinistra dopo la procedura a destra stent che non si riesce a individuare e le spirali nell'aneurisma che sono contenute appunto dallo stent questa è la finale in proiezione di lavoro rilasciato e nel controllo finale si ha appunto l'esclusione dell'aneurisma del circolo altra patologia di pertinenza neurointerventistica è rappresentata dalle MAV delle malformazioni arteriovenose cosa sono le malformazioni arteriovenose negli shunt delle comunicazioni patologiche tra arterie e vena che si realizzano senza l'interposizione di capillari sappiamo che le arterie diventano arteriole quindi i capillari poi venule e vene se manca il letto capillare c'è una comunicazione tra arteriole e venule che è a rischio di sanguinamento perché ovviamente la vena non è preparata a ricevere la pressione arteriosa proprio appunto dei vasi arteriosi la pressione sistolica nel disegno vedete le arterie afferenti il nidus quindi la parte centrale della malformazione e quindi le veneranti alcune malformazioni arteriovenose come le MAV possono essere embolizzate definitivamente quindi trattate definitivamente per via endovascolare oppure parzialmente prima di un trattamento che può essere poi chirurgico o radioterapico il trattamento viene eseguito con spirali o con colle più spesso con colle e qui vedete un esempio di un paziente con una malformazione arteriovenosa rotta della regione talamico corioidea prima dell'embolizzazione a destra si vede la vena di drenaggio in orizzontale che scarica nel seno trasverso che è arterializzato e dopo l'embolizzazione la ridotta rappresentazione della vena di scarico perché ovviamente non c'è più l'afflusso di sangue che è stato ridotto dall'embolizzazione non c'è più l'arterializzazione del seno nell'immagine al centro l'immagine non sottratta la radiografia in laterale dopo l'embolizzazione con il materiale embolizzante vediamo nel particolare le fasi della procedura il microcatedere questo microcatedere di calibro molto sottile che raggiunge l'arteria talamogenicolata che origina dal cerebrale posteriore viene eseguita dapprima in angiografia diagnostica che vedete nell'immagine in alto a destra quindi l'iniezione super selettiva nel vaso che mostra dapprima il vaso arterioso poi il reticolo patologico il nidus della malformazione e quindi più grande la vena di scarico dopo aver confermato la corretta posizione del microcatedere viene iniettata la colla e questa è la tac di controllo in basso con le due immagini più grande visualizzazione panoramica e mirata nella sede di rilascio della colla vedete la colla che ha che rispecchia il calco dell'arteria afferente e del nidus della malformazione ancora altra patologia trattabile per via endovascolare le fistole arteriovenose durali sono diversamente dalle MAV delle condizioni in cui l'afferenza arteriosa è data da rami durali che vuol dire rami durali non sono rami della carotide interna rami piali rami del cervello ma sono rami della carotide esterna quindi rami che irrorano la dura più frequentemente le afferenze alle fistole arteriovenose durali sono dall'arteria meningia media o da rami durali ad esempio dell'arteria vertebrale la comunicazione si realizza sempre tra arteria e vena ma in questo caso ripeto non siamo con vasi piali ma con vasi con afferenze durali durali vuol dire della dura di quella parte che riveste il cervello distinguiamo tre tipi di fistole arteriovenose durali e la gravità dipende dal tipo di fistola nel tipo 1 la comunicazione è tra il vaso durale quindi il ramo della carotide esterna più frequentemente arteria meningia media e un grosso vaso venoso quindi un seno venoso il seno è grande e quindi può accogliere il sangue arterioso senza eccessivi problemi sono fistole in genere con un decorso benigno che possono non richiedere il trattamento nel disegno vedete appunto la comunicazione tra un ramo durale dell'arteriocipitale e il seno trasverso con scarico nel seno trasverso e flusso nel seno arterializzato non compromesso se però si verifica un'occlusione quindi un ostacolo al deflusso ad esempio un coagulo nel seno venoso allora ci può essere un reflusso nel seno venoso o un reflusso in una vena ad esempio qui vedete nella vena di Labbe e qui ci troviamo nelle fistole del secondo tipo quindi comunicazione con seno ma flusso invertito in seno venoso o in vena corticale le fistole più pericolose sono quelle che si verificano tra il vaso arterioso durale e una piccola vena senza la partecipazione del seno la piccola vena non è pronta a ricevere la pressione arteriosa e quindi più facilmente può rompersi anche perché è di piccole dimensioni e non è in comunicazione con un seno venoso e sono le fistole del terzo tipo sono le fistole più frequentemente emorragiche sono quelle che richiedono un trattamento endovascore nella maggior parte dei casi questa appunto è una fistola Borden 3B quindi una fistola del terzo tipo quindi critica B perché le afferenze sono multiple tentoriale a livello del tentorio dove i rami provengono dall'arteria vertebrale destra e dall'arteria meningea media non dimostrato da questa diapositiva ma dalla successiva nelle tre immagini in alto vedete la sequenza angiografica dopo iniezione in arteria vertebrale è una visione laterale che dimostra la precoce visualizzazione di una struttura rotondeggiante ovalare che corrisponde appunto ad una vena dilatata una varice venosa e quindi una vena di scarico che drena nell'ampolla di galeno sotto le tre immagini mostrano l'esito dopo l'embolizzazione con l'esclusione della comunicazione patologica non è più visibile la varice venosa non è più visibile la vena di scarico che vedete invece nella parte alta delle tre immagini la visione anteroposteriore dello stesso caso qui le afferenze sono dimostrate dall'arteria meningia media dall'arteria occipitale di sinistra qui abbiamo iniettato nella carotida interna nella precedente diapositiva abbiamo iniettato nell'arteria vertebrale quindi due distretti diversi ebbene nella fila in alto prima della procedura nella fila in basso dopo la procedura si vede come nella prima immagine in alto a sinistra vi è questa immagine ovalare che è la stessa che vedevamo in laterale rifornita dai rami dell'arteria vertebrale che rappresenta appunto una varice venosa c'è poi la precoce visualizzazione dell'ampolla di galeno e quindi dei seni trasversi e delle vene giugulari nella terza immagine in alto a destra siamo ancora in una fase precoce non siamo ancora in una fase venosa ma già si vedono le vene espressione appunto della comunicazione patologica tra arteria e vena in basso il controllo dopo l'embolizzazione dove si vede esclusa malformazione e il circolo ristabilito come si è arrivati al trattamento le varie fasi vediamo quali sono c'è una afferenza che vedete in alto a destra dall'arteria meningea media dal ramo squamoso che raggiunge appunto il punto di fistola visibile sia in laterale che in altero posteriore in basso le varie fasi del trattamento la proiezione che si è scelta per lavorare in basso a sinistra e quindi le graduali iniezioni di onyx qui vedete il ramo con la freccia indicato il ramo che nutre la malformazione ancora distalmente il ramo che nutre la malformazione quindi la vena di scarico cerchiato in rosso vedete questa immagine più densa che corrisponde appunto al punto di fistola e alla vena di scarico che è vista diciamo di infilata è vista trasversalmente a sinistra in latero laterale a destra in antero posteriore in basso vedete il microcatetere che ha navigato l'arteria meningia media e l'iniezione di onyx tende a chiudere la malformazione la fila in alto e la fila in basso antero posteriore e laterale dopo il trattamento si vede come l'onyx il materiale che abbiamo iniettato ha riempito ha riempito la sede della malformazione e il piede della vena il piede di vena cosiddetto senza raggiungere l'avarice venosa che rimane presente quest'immagine questo calco di onyx rispecchia ciò che vedevamo prima del trattamento ancora di pertinenza neurointerventistica ultimo argomento lo strocchi ischemico negli ultimi anni si è assistito a una crescita enorme del numero delle procedure proprio per la possibilità di trattare condizioni che fino a qualche anno fa non erano trattabili non potevamo fare nulla adesso invece intervenendo precocemente quindi entro le 4 ore e mezza per il trattamento endovenoso farmacologico entro le 6 ore per il trattamento interventistico o anche in tempi più lunghi in determinate condizioni è possibile ristabilire il flusso portando via il trombo questo si è reso possibile per l'evoluzione enorme che c'è stata nei materiali che ha consentito di sviluppare dei cateteri e dei microcateteri che possono raggiungere agevolmente sedie distali e rimuovere il trombo la rimozione del trombo può avvenire con due sistemi come vedremo con tromboaspirazione quindi aspirando il trombo oppure imbrigliandolo in uno stent con la cosiddetta tecnica dello stent retriever nella diapositiva che potete osservare riconosciamo a sinistra l'immagine anteroposteriore prima del trattamento con il blocco del flusso a livello della terra cerebrale media e a destra l'immagine dopo il trattamento con flusso ristabilito si tratta di un ictus a 4 ore dall'esordio con una cerebrale media a destra chiusa NIH che è il grading clinico al momento dell'ingresso di 12 trombectomia eseguita con dispositivo penumbra NIH dopo la procedura a 4 quindi quasi completo recupero delle funzioni vediamo quali sono state le fasi innanzitutto l'angiografia diagnostica che mostra la cerebrale media occlusa viene posizionato il catetere per tromboaspirazione al ridosso del trombo qui vedete l'ingrandimento questo cerchietto all'interno dell'orbita è l'estremità del catetere per tromboaspirazione al ridosso del trombo e viene aspirato il trombo tecnica appunto di tromboaspirazione qui vediamo un altro esempio eseguito con una tecnica diversa appunto di stent retriever TC di esordio in basso a sinistra nel cerchio rosso l'iperdensità dell'arteria cerebrale posteriore che rappresenta il coagulo all'interno del vaso l'angio TC che mostra la mancata opacitazione del vaso ovviamente per la presenza del trombo a destra in basso la ricostruzione 3D che mostra la mancata rappresentazione della cerebrale posteriore di sinistra qui siamo a 13 ore dal primo episodio dal TIA che ha rappresentato appunto il primo sintomo del paziente in pieno benessere improvvisa disartria comparsa di paresi all'erto superiore destro con associato rallentamento ideomotorio un NIH non troppo alto ma siamo nel circolo posteriore qui la valutazione clinica con questa scala non è ottimale l'angiotac e la TC mostrano appunto il trombo nello cerebrale posteriore si procede con l'imaging intanto diagnostico vedete tempo zero che mostra la mancata rappresentazione della cerebrale posteriore e qui è la finale dopo trambectomia con stent retriever che è questo revive con ricanalizzazione del vaso le fasi della procedura viene portato il dispositivo per rimuovere il trombo all'interno del vaso quindi si naviga il vaso alla cieca e viene poi rimosso il trombo nel cerchio rosso vedete il dispositivo aperto in corrispondenza del trombo e la ricanalizzazione successiva e questo è il dispositivo che ha catturato il trombo con il trombo ancora all'interno del dispositivo fotografato appunto che rappresenta l'ostacolo al flusso che si è riusciti a rimuovere ricordiamoci che per l'esecuzione di questa procedura il paziente deve arrivare in tempi brevi in ospedale entro le 4 ore e mezza per il trattamento con vena e entro le 6 ore per il trattamento con intraarteria che può essere abbiamo detto di tromboaspirazione o con stand retriever il tempo è fondamentale nel trattamento di questi pazienti tanto prima si interviene tanto maggiore sarà il recupero oltre alle possibilità endovascolari la neuroradiologia interventistica permette anche il trattamento della colonna vertebrale in particolare le fratture vertebrali con tecniche di cemento plastica che possono essere la vertebroplastica la cifoplastica la cifoplastica con stand o il trattamento poi vedremo anche delle arnie discali la vertebroplastica permette di riempire di iniettare all'interno della vertebra fratturata una resina di polimetil metacrilato che solidificando rinforza la vertebra e elimina il dolore con la cifoplastica la tecnica è simile ma viene prima posizionato un palloncino che dilatato crea una cavità all'interno della quale si mette il cemento con la cifoplastica con stand viene proprio rilasciato uno stand all'interno del corpo vertebrale devo dire che questa tecnica con stand è meno utilizzata le più utilizzate sono appunto la vertebroplastica e la cifoplastica cosa è la vertebroplastica? è una tecnica di neuroradiologia interventistica che consiste nell'iniezione di una resina bicomponente di polimetil metacrilato all'interno della vertebra con guida TC e O fluoroscopica la prima vertebroplastica è stata eseguita da un neurodiologo francese Deramond nell'84 in un angione vertebrale qual è l'indicazione della vertebroplastica? non la frattura vertebrale ma la frattura vertebrale con un dolore intrattabile non radicolare causata appunto il dolore da una frattura da osteoporosi oppure da lesione sostitutiva come mielone in un tasto si vuole un germe aggressivo candidato ideale è il paziente con una frattura osteoporotica entro 4 mesi ma prima si fa e meglio è con dolore mediano quindi non irradiato che aumenta con il carico esacerbato dalla digitopressione del processo spinoso all'esame clinico della vertebra coinvolta la risonanza magnetica è fondamentale perché permette di dimostrare la frattura recente evidenziando l'edema della spongiosa con una ipointensità in T1 ed una iperintensità in T2 indicativa appunto di frattura recente ma non tutti i pazienti possono eseguire una risonanza magnetica quindi in chi non può eseguire la risonanza per evidenziare che ci troviamo di fronte a una frattura acuta recente può essere eseguita anche una scintigrafia OTSA che con l'ipercaptazione può appunto confermare l'epoca recente della frattura controindicazioni assolute se c'è un frammento all'interno del canale spinale se c'è una mielopatia non andiamo a trattare ovviamente questi pazienti perché il beneficio sarebbe soltanto sul dolore non sulla mielopatia ciò che bisogna risolvere invece è la mielopatia quindi questi sono pazienti candidati alla chirurgia controindicazioni relative possono essere la presenza di una radicolopatia associata perché la radicolopatia può non migliorare una retropulsione asintomatica del frammento osseo perché durante l'iniezione del ciamento se c'è una parziale se c'è un parziale impegno del frammento nel canale spinale questo può essere ulteriormente spinto nel canale quindi peggiorare la clinica del paziente se c'è un'estensione asintomatica epidurale del tumore perché potrebbe essere diciamo una sede di fuga di celendio qual è la finalità? la finalità è la risoluzione del dolore e il rinforzo della vertebra ma soprattutto la risoluzione del dolore non sappiamo esattamente perché il dolore migliora sono stati supposti vari meccanismi dal meccanico stabilizzazione al termico quindi neurolisi la lisi delle terminazioni nervose responsabile del dolore acito tossico quindi necrosi delle cellule tumorali in effetti funziona e questa è una evidenza chiara che abbiamo quotidianamente nell'esecuzione della metodica ricordiamoci che non eseguiamo la vertebra plastica perché una vertebra è crollata perché c'è una frattura ma perché è crollata ed è responsabile di un intenso dolore non eseguiamo la vertebro plastica per aumentare la consistenza delle vertebre osteoporotiche ma poiché sono sede di un crollo recente doloroso c'è poi la possibilità di un rialzo del corpo vertebrale ottenibile con la metodica ma certo forse maggiormente raggiungibile con la cifo plastica dove il rialzo del corpo vertebrale può essere osservato già al momento del gonfiaggio del palloncino all'interno del corpo vertebrale farturato questo è il materiale che viene utilizzato utilizziamo l'anaropina per l'anestesia un ago per biopsia ossea per fare appunto la biopsia sulla vertebra un ago spinale da 22 goge per l'anestesia in profondità un ago da vertebro plastica che è di dimensione variabile da 10 goge a 15 goge quindi tra i 2 mm vedete E6 e un millimetro e mezzo ovviamente l'ago più grande agevole all'inizio del cemento la ciotolina per mischiare il cemento il cemento delle garze e poi la pistola per l'inizione perché l'inizione viene fatta sotto pressione costo del kit circa 700 euro costo di un kit di cifo plastica circa 3000 euro quindi molto di più la eseguiamo o in sala TAC ma è necessario anche l'arco C perché durante l'inizione del cemento dobbiamo verificare dove il cemento sta andando oppure direttamente in sala angiografica quindi soltanto con l'arco C la procedura viene eseguita in neuroleptoanalgesia quindi con sedazione antidolorifico il paziente non è intubato quando la eseguiamo in sala angiografica possiamo eseguirla con doppio arco in modo da avere un controllo sia dell'antropo posteriore che della laterale che velocizza il posizionamento dell'arco questo è un esempio di vertebroplastica in paziente con frattura vertebrale per caduta accidentale vedete la rima di frattura evidenziata dalle frecce rosse nell'immagine TC l'iniezione di cemento dopo aver posizionato l'ago per via transpeduncolare con la TAC iniezione controllata dal fluoroscopio e quindi il risultato finale vedete in basso la ricostruzione sagittale a sinistra e coronale a destra con il cemento che occupa parte del soma e appunto della frattura a volte trattiamo più livelli se le fratture sono multiple come in questo caso due livelli di frattura recente dimostrati da risonanza magnetica con l'ipointensità in T1 e iperintensità in T2 per etema della spongiosa l'accesso è transpeduncolare monolaterale con guida fluoroscopica a livello L1 e L2 inizialmente nell'immagine a sinistra vedete come l'ago punta la parte laterale del peduncolo quindi viene avanzato nella parte centrale non deve mai superare la parte mediale del peduncolo perché oltre la parte mediale c'è il canale spinale quindi vorrebbe dire che abbiamo violato il canale spinale prima di aver raggiunto il corpo vertebrale quindi ancora siamo nel peduncolo nel centro del peduncolo qui siamo nel centro del corpo vertebrale abbiamo superato la parte mediale ma nella proiezione laterale abbiamo già superato il corpo vertebrale come vedete appunto nella immagine laterale quindi si segue il posizionamento dell'ago sia in anteroposteriore che in laterolaterale per evitare ovviamente di invadere il canale spinale questi sono i due aghi posizionati in laterale a sinistra in anteroposteriore a destra e quindi l'iniezione del cemento per consolidare le tratture vertebrali e veniamo infine al trattamento delle ernie discali diciamo che il trattamento può essere diretto sull'ernia o più frequentemente più agevolmente e in modo più valido sugli effetti infiammatori causali dall'ernia cioè la nostra finalità è ridurre l'infiammazione se non agiamo direttamente sull'ernia l'infiltrazione viene eseguita nello spazio epidurale lo spazio epidurale è quello spazio tra il sacco protecale dove vedete i pallini verdi e l'osso è uno spazio compartimentalizzato quindi non è uno spazio libero anche se lo è libero in particolare iniettando in una parte dello spazio epidurale posteriore non si ha una omogenea simmetrica distribuzione del farmaco nei due lati perché appunto lo spazio è compartimentalizzato ecco allora che per una maggiore efficacia del trattamento infiltrativo si preferisce invece che intervenire che iniettare nello spazio epidurale posteriore iniettare nel forame di connecazione con una successiva distribuzione del farmaco nello spazio epidurale anteriore appunto la tecnica trasforaminale invece della tecnica epidurale posteriore vediamo un esempio pratico questo è un atfesi transforaminal epidural steroid injection cioè l'infiltrazione è epidurale ma attraverso la via transforaminale di steroidi l'accesso vedete è posterolaterale nel forame di connecazione l'ernia è posterolaterale quindi il materiale che viene iniettato anestetico e cortisonico viene iniettato nello spazio epidurale anteriore cioè lì dove c'è il contatto tra l'ernia discale e la radice l'altra tecnica posteriore è l'esi qui il target è lo spazio epidurale posteriore che come dicevamo è uno spazio compartimentalizzato quindi ove possibile è meglio l'atfesi l'iniezione nello spazio epidurale anteriore ma non sempre è possibile accedere al forame di coniugazione ad esempio a livello l5s1 le creste liache impediscono di accedere al forame allora per un'ernia discale l5s1 siamo costretti a iniettare posteriormente la via è interlaminare cioè tra le lamine utilizziamo un mezzo di contrasto diluito al 50% o aria per avere la conferma che il lago si trova nello spazio epidurale e non all'interno quindi nello spazio subaracnoideo quindi il posizionamento dell'ago deve essere eseguito in modo molto cauto questo è un accesso posterolaterale destro qui vedete invece un accesso da sinistra con ben descritti il legamento giallo appunto in giallo l'ago che ha superato il legamento giallo la radice S1 che è compressa dall'ernia discale questo è il sacco di cale indicato dalla freccia bianca orizzontale l'ago da 22 g iniettiamo il mezzo di contrasto che vedete in questa immagine di perdenza per avere la conferma di essere in posizione extradurale questa è la radice S1 quindi l'iniezione è stata effettivamente eseguita nello spazio extradurale questa immagine ci dimostra chiaramente come lo spazio epidurale è compartimentalizzato vedete che non c'è il passaggio nel versante destro dove il grasso epidurale rimane non opacizzato dal contrasto questa era l'ultima diapositiva per riassumere nell'angiografia ricordiamoci della puntura arteriosa avvonosa con ago cavo della tecnica di seldinger il posizionamento dell'introduttore quindi attraverso dell'introduttore il posizionamento di cateteri di vario tipo di varie dimensioni e di guide il catetere deve essere sempre avanzato su una guida con finalità diagnostica o interventistica per l'interventistica abbiamo delle microguide dei microcatedri come abbiamo visto è possibile il trattamento di aneurismi questo ha rivoluzionato l'approccio agli aneurismi è possibile il trattamento di malformazioni arterovenose e di fistole arterovenose durali dove ricordiamoci la ferenza non è da rami piali ma da rami durali da rami della carotide esterna è possibile il trattamento di tumori devascolarizzandoli per quanto riguarda l'interventistica spinale ricordiamoci della cementoplastica quindi con vertebroplastica o con cifoplastica e infiltrazioni spinali oppure dei trattamenti per cutaneo del disco grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione